La prima generazione di cavalieri d'oro La prima generazione di cavalieri d'oro Dopo che la maggior parte di eroi di Atena era stata sterminata Sappiamo da lì per mito che erano rimasti soltanto dei ragazzini E Atena, non volendo perdere anche l'oro, acconsentì alla creazione delle armature Chi abbia creato le armature non viene mai detto Però visto il regame che c'è tra il cavaliere di Ariete e il popolo dell'isola di Mu È molto probabile che anche il cavaliere di Ariete mitologico fosse un muriano Fosse qualcuno proveniente dall'isola di Mu Che quindi abbia partecipato alla creazione delle prime armature Potrebbe essere stato persino uno degli alchemisti che ha forgiato le prime corazze Non è proprio certo al 100% perché può anche darsi che fosse di un altro segno Però considerando che due Ariete su due in mano a Curumada Sono riparatori e forgiatori di armature Diciamo che la possibilità è molto forte Quindi è molto probabile che il primo Ariete Intanto sicuramente era un discendente del popolo di Mu Quindi aveva quella specie di nei che poi dovrebbero essere sopracciglia Lasati in un certo modo in fronte Ed è probabilmente uno degli alchemisti che ha creato le armature Per primo cavaliere del toro non sappiamo assolutamente niente In realtà non c'è granché che si possa dedurre A parte probabilmente una notevole stazza Che diciamo che sembra essere la costante tra i tori Ma non c'è niente che vi accomuni Quindi qui zero informazioni Invece dei gemelli sappiamo qualcosa in più Perché il destino dei gemelli è essere due Ed essere in conflitto tra loro Pare che saga e canon non siano stati un evento sporadico Ma che in ogni epoca e ogni generazione Il cavaliere dei gemelli sia destinato ad avere questo scontro Tra luce ed oscurità Tra yin e yang Questo è qualcosa che viene finalmente detto ufficialmente in Omega Ma è presente anche di tanto in tanto nel materiale accessorio E la ragione è che i gemelli sono sempre stati visti come portatori di sventura Non le persone del segno dei gemelli Eindent proprio i gemelli veri Questo è il motivo per esempio per cui ad Asgard Uno, Tauco e Mizra dovette essere abbandonato A parte quello che viene detto nel doppiaggio Ma tornando al cavaliere dei gemelli È molto probabile che anche nell'epoca mitologica Ci sia stato un gemelli buono e un gemelli malvagio Cosa sia successo? Come sia andata a finire? Non lo sappiamo O meglio Possiamo immaginare che abbia vinto il buono Perché altrimenti la storia sarebbe finita lì Ma fondamentalmente non abbiamo informazioni ulteriori al riguardo Per i cancri sappiamo invece che sono stati incaricati da Atena Di custodire la valle della morte Lo Yomotsu Hirasaka Che è quella zona dell'Aldiva sotto il controllo di Atena In realtà ogni tanto qualcuno si chiede Ma perché lo Yomotsu è proprietà di Atena e non di Ade? Questo perché in realtà quando si è nello Yomotsu Nella valle di Ade ancora non si è morti Quello è un'anticamera dove si va per esempio Quando si è in coma, quando si è in fin di vita Però finché si è soltanto nella valle di Ade Si può ancora ritornare in vita E soltanto dopo essere caduti nella voragine Che veramente si perde ogni possibilità di ritornare in vita E poi si diventa schiavi di Ade Quindi i cavalieri del Cancro sono coloro che hanno ricevuto da Atena L'incarico di fare i guardiani di quella zona Di quella parte di Aldiva Questo potrebbe presupporre che ci sia avvenuto qualcosa Tra il cavaliere del Cancro e Aldiva durante la prima guerra sacra Ma più probabilmente è legato al fatto che il Cancro e la quarta costellazione È un numero quattro in giapponese È molto simile alla parola morte È considerato un numero nefasto Quindi è probabile che sia per questo che il cavaliere della quarta casa È stato collegato con Aldiva Dei Leoni non sappiamo assolutissimamente niente Non ci sono zero informazioni che vi riguardano Mentre i cavalieri della Vergine sembrano essere sempre un legame Tra Oriente e Occidente Anche qui non abbiamo una vera spiegazione di perché ciò accada Non sappiamo se sia sempre stato così anche in passato Però sicuramente tutti i cavalieri di Virgo che conosciamo Sono in qualche modo legati all'Oriente E i colpi del cavaliere della Vergine E i colpi segreti sono una cosa anche importante Perché abbiamo visto che i colpi si ereditano di generazione in generazione Quindi ci danno un po' una finestra Per permetterci di immaginare qualcosa sul primo cavaliere di Corsegno E sono quasi sempre colpi di natura buddista Di natura comunque orientale Non è una condizione assoluta Per esempio Shun diventerà il cavaliere della Vergine Senza essere di discendenza buddista orientale o qualcosa Però diciamo che è un forte indizio Ora perché questo può essere successo? Possiamo immaginare un'alleanza tra Atena e l'Oriente Per combattere ancora prima guerra sacra Non è detto che Atena abbia combattuto sempre da sola È possibile che ci sia stata una qualche collaborazione Con entità più benevole come lo stesso Buddha E da qui si sia venuta a creare un'alleanza Appunto che ha portato il cavaliere della Vergine Ad avere un legame buddista Ora questa è un'ipotesi che lascia un po' sicuramente il tempo che trova Anche per un discorso temporale Visto che l'epoca dei cavaliere L'epoca delle guerre sacre dovrebbe essere molto più antica Molto precedente alla comparsa del buddismo sulla terra Ma sappiamo che se in serie su queste cose non ci pensa poi molto Basta vedere le costellazioni che nell'epoca mitologica Non erano neanche quelle che sono poi in epoca attuale Un altro legame tra Oriente e Occidente Sembra esserci stato per la bilancia L'armatura della bilancia è un'altra armatura che simboleggia Yin e Yang Con elementi di drago ed elementi di tigre Basta vedere Reumo che ha una forma di tigre Ma ha anche tutte le scaglie che si trovano su bracciali, schinieri e così via Drago e tigre sono gli eterni rivari in Cina e in Oriente Ma sono anche simboli di poli opposti Quindi questo fa pensare che ci sia stato anche in questo caso Un cavaliere originale della bilancia che provenisse dall'Oriente Impossibile saperne di più senza una qualche devucitazione ufficiale Però il fatto che il cavaliere della bilancia sia anche unico Ad avere questo tatuaggio sulla schiena a forma di tigre E che questi tatuaggi siano poi una caratteristica di coloro Che sono destinati ad indossare l'armatura della bilancia Sembra rafforzare quest'ipotesi Il cavaliere della bilancia deve essere colui che determina la giustizia nel Grande Tempio E deve appunto bilanciare forza e giustizia Se una delle due è prevaricante Il compito del cavaliere della bilancia è cercare di ripristinare l'equilibrio Questo è qualcosa che viene spiegato in Next Dimension Quando i piatti della bilancia si sbilanciano perché la forza sta prevaricando sulla giustizia Sullo Scorpione come per Toro e Leone è veramente impossibile dire qualsiasi cosa Mentre sul Sagittario sappiamo che ricevette da Atena Nelle epoche mitologiche la freccia della Dea Il primo cavaliere del Sagittario ricevette questo dono da Atena Questo ci fa pensare che le fosse particolarmente caro, particolarmente fedele E che sin dall'inizio Atena fece di lui un arciere Quindi ci deve essere un motivo per cui una Dea che era sempre contraria all'uso delle armi Abbia consentito la creazione delle armi della bilancia per il cavaliere di Libra E dell'arco e freccia del Sagittario per il cavaliere di Sagittario E in particolare Atena, pur essendo contraria alle armi Donò questa freccia al cavaliere di Sagittario Dotata di poteri speciali Una freccia in grado di cancellare praticamente chiunque colpisca E che non può essere fermata da nessun attacco o cosmo se non da Atena stessa Presumibilmente in realtà immagino anche da entità pari o superiori cosmicamente ad Atena Ma fatto stacca il succo è quello Quindi il primo cavaliere del Sagittario è colui che ricevette questa freccia leggendaria da Atena E noi vediamo la scena in Next Dimension Qualcosa di simile accadde con il primo cavaliere del Capricorno Questa è una cosa che in realtà vediamo soltanto nell'anime, non c'è nel manga Ma il primo cavaliere di Capricorn ricevette da Atena Excalibur Anche in questo caso si trattò di un ringraziamento per un cavaliere particolarmente devoto e fedele E anche in questo caso la dea, a contraria alle armi, aveva poi un piccolo arsenale da dare in giro a chi che sia Fatto sta che il primo cavaliere del Capricorno ricevette Excalibur E probabilmente in qualche modo la fece propria, la similò nel suo corpo Visto che da ora Excalibur dorme nel braccio o comunque negli arti del cavaliere della decima casa L'acquario invece è sicuramente sempre stato collegato alle energie fredde Abbiamo avuto tanti acquari nella serie ma per il 99% sono stati tutti dominatori delle energie fredde Il collegamento in questo caso è probabile che sia con Blue Grado Blue Grado è la terra dove venne imprigionato Nettuno al Polo Nord E dove vennero inviati dei cavalieri che poi presero il nome di Blue Warriors Per custodire questo sigillo con il quale Nettuno era stato imprigionato Molto probabilmente nessuno di questi cavalieri era un acquario Almeno da quanto ne sappiamo finora Però questo è sempre qualcosa che potrebbe cambiare Per esempio magari in Time Odyssey scopriremo qualcosa in più Visto che il terzo volume sembra riprendere proprio Blue Grado, Cigno e Acquario Ma fatto sta che il fatto che un cavaliere delle energie fredde sia a destra in Siberia E vicino al luogo dove esiste la città di Blue Grado e quindi il sigillo di Nettuno Suggerisce che il collegamento tra l'acquario e le energie fredde potrebbe essere nato Alla fine della prima guerra sacra e che potrebbe essere legato a questa prigionia del Signore degli Abissi Infine il cavaliere dei pesci sappiamo che è un maestro di tecniche feriari Ma sappiamo adesso anche che il santuario stesso è in grado di produrre la scarinata di rose Se giudica Atene in pericolo o se sente che c'è un nemico, un invasore Quindi è probabile che il cavaliere dei pesci dall'epoca mitologica sia stato sempre collegato In quanto ultimo dei dodici, ultimo baguardo del santuario Sia stato sempre collegato un po' alla difesa della dea E un po' anche alla creazione di questo tappeto floreale, di questa trappola di rose Che poi deve impedire di riacciare il suo sacerdote Quindi è molto probabile che il cavaliere dei pesci sia sempre stato ultimo guardiano del Grande Tempio E che abbia sempre combattuto e sempre padroneggiato le rose Sarebbe interessante a questo punto sapere se sono nate prima le rose dei pesci o prima le rose del Grande Tempio Cioè se il cavaliere dei pesci abbia iniziato a padroneggiare le rose perché il Grande Tempio aveva questa difesa O se il Grande Tempio ha creato questa difesa dopo o grazie al cavaliere dei pesci Questo è un po' il quesito se sia nato prima uovo o agarina Per adesso non lo sappiamo, ma in futuro chissà Quindi ecco, queste erano un po' le informazioni e le deduzioni che possiamo fare sui cavaliere d'oro della prima generazione Sono poche, come detto, sono vaghe perché non c'è stato mai svelato niente di chiaro riguardo Però è bello anche fare ipotesi e chissà che in futuro qualche opera, qualche spin-off non doni informazioni aggiuntive Ve le ricordavate tutte e come immaginate i gold della prima generazione Scrivetelo come sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!